Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel Nathanael Drago, scusate l'attesa per queste due settimane ma abbiamo avuto un po' di problemi, abbiamo avuto un po' di cose da fare, e visto che ce l'avete chiesto in molti, volevamo darvi i nostri contatti PSN e Xbox Live, mentre mi sto mangiando il patatino e il bacon, ve li lascio qua sotto in descrizione, e se volete aggiungermi la vostra lista amici, fatelo pure, magari ci facciamo qualche partitina in live, chiaramente i rompicoglioni verranno eliminati subito, mentre chi ha voglia di giocare, chi ha voglia di divertirsi, sarà ben accetto, vi lascio sia i miei contatti che quelli del fabbolo che ha voluto, anche lui che ve li lasciassi, per cui, niente, a questo punto finisco di mangiarmi le patatine, vi saluto e forse, dico forse, ci vediamo in live, ciao ragazzi!